Ecco, la parola Rigopiano, emblema di vite che finiscono, qui è accostata alla rinascita, un filo d'erba, un fiore, una piccola oasi nel tessuto urbano. È stata una cerimonia intima, quella celebrata oggi al Giardino Rigopiano di Montesilvano, uno spazio in cui riecheggiano le grida e le risate dei bimbi, che proprio per questo è piaciuto a Marco, figlio di Tobia Foresta e Bianca Iudicone, vittime della tragedia dell'hotel travolto dalla valanga del 2017. La coppia che risideva a Città Sant'Angelo aveva qui un'attività commerciale, per questo il sindaco Ottavio De Martinis, sin da subito, ha deciso di rendere omaggio alle vittime deponendo un ammazzo di fiori ai piedi della targa che riporta l'intitolazione del Giardino. Lo scorso anno abbiamo voluto inaugurare la presenza dei familiari delle vittime, questo bello spazio verde dove tanti bambini adesso giocano frequentandolo e tanti ragazzi in futuro avranno insomma il ricordo di quello che è successo, di quello che ci auguriamo non possa più succedere, non debba più succedere. È una tragedia che ha toccato un po' tutti noi e quindi come Montesilvano abbiamo voluto inaugurare questo giardino e dedicarlo alle vittime proprio affinché ci sia un ricordo delle vittime soprattutto sia anche da monito per il futuro. Marco, una cerimonia semplice e intima ed è così che la volevi? Sì, noi cerchiamo sempre di tenere un basso profilo però ricordando sempre quello che è successo ormai cinque anni fa e ringraziamo il sindaco già per l'idea che ha avuto di intitolare un parco quindi un'area verde, un'area piena di vita, un'area piena di bambini ai nostri cari e per la cura che ne sta avendo e che non è finalizzata al giorno della tragedia insomma ma è tutto l'anno. La cosa che ci ha fatto enormemente piacere è stata proprio questa, di vedere bambini che vengono a giocare qui nel parco e che portino il ricordo di purtroppo 29 persone che in quella tragedia non ce l'hanno fatta. Quello che vogliamo che si ricordino quelle 29 persone ma quello che è successo non deve mai più accadere perché era una tragedia evitabile, una tragedia che ancora oggi ha molti lati oscuri però noi la verità la sappiamo, ce l'abbiamo nel cuore e speriamo che emerga il più presto.